Sacerdote 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sacerdotes Dei benedicite dominum, sancti e tumiles corte, laudate Deum alleluia. Questo canto gregoriano si trova a pagina 447 del libro graduale romano. Il testo è composto nel sesto modo, comune martirum. Il testo è tratto da Daniele 3,84,87 e 57. Giovanni Vianini, studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, estate 2014. Per studiare, è il primo studio che faccio, è la prima lettura, ho utilizzato una tastiera che poi abbandono e canterò a forse sola, come tutto il canto gregoriano. E' semplicemente uno studio. Al termine di questo video ti faccio vedere lo spartito preso da vicino, così puoi vedere bene la melodia e il testo che ho contato. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.